Ragazzi volete vincere skin o altri oggetti? Dallo shop di Fortnite tutto gratuitamente da parte mia Basta seguire tutti questi semplici passaggi che vi metto qui alla mia destra Iscriviti e attiva la campanellina o commenta con il tuo ID su Fortnite qua sotto nei commenti In modo che poi potrò estrarre alcuni di voi che avranno fatto i passaggi Lascia like e condividi il video con tutti i tuoi amici Guarda tutto il video e infine seguimi su Instagram cecchinato-tv E a raggiungimento ragazzi di 200 like sotto questo video dai commenti Valla appunto estrarò delle persone che avranno eseguito tutti questi passaggi E infine gli regalerò un oggetto su Fortnite Detto questo non c'entra assolutamente niente con i regali Quindi non è un passaggio obbligatorio a fare Però qualora voleste potete supportarmi nello shop con il mio codice cecchinato-nato Detto questo vi lascio al video Buona continuazione Ragazzi bentornati in questo unissimo video Io sono cecchinato e oggi ragazzi siamo in unissimo video su Fortnite news Ma prima di incominciare se non siete ancora iscritti Iscrivetevi con la campanellina Lasciate un bel like Condividete questo video con i vostri amici E se ancora non l'avete fatto seguitemi anche su Instagram Cecchinato-tv Detto questo ragazzi oggi abbiamo veramente parecchie news molto molto interessanti Perché abbiamo una nuova versione, un nuovo stile gratuito Ovviamente per tutti i possessori della skin Bruma Che presto arriverà su Fortnite Quindi mi raccomando guardate tutto il video E poi ovviamente andremo a vedere nuovissimi leak per la stagione 5 Iniziamo ragazzi subito con questa prima news Che vi metto proprio qui alla mia destra E come possiamo vedere parliamo della collaborazione tra FNAF e Fortnite Infatti sembrerebbe che l'idiatore proprio ha scritto sul suo profilo Reddit Un post dove diceva che non ci saranno attualmente collaborazioni con nessun videogioco Quindi sembrerebbe che Fortnite e FNAF attualmente non effettueranno una collaborazione Che quindi non sarà la skin di FNAF ad arrivare su Fortnite Ma ci sarà un'altra skin Attualmente non sappiamo ovviamente quale sia Però sembra che quindi FNAF non sarà il prossimo cacciatore ad arrivare sull'isola di Fortnite Andiamo avanti con la prossima news Parliamo di Travis Scott Me lo state chiedendo in tantissimi Se appunto l'avevano tolto dai file Se era una cosa vera o meno E come possiamo vedere da questo post ragazzi No, Travis Scott è ancora presente nella sezione del negozio oggetti Quindi tutte le presunte informazioni di rimozione delle app di gioco Erano fake, non erano reali Quindi state tranquilli Travis Scott è ancora all'interno dei file di gioco Deve uscire Arriverà al 100% Ripeto la data non lo può sapere nessuno Quindi non chiedetemi quando uscirà Perché non ne ho idea Posso solo dirvi Nei seguenti giorni barra settimane Sicuramente arriverà Parliamo anche del nuovo portale Che sta arrivando per l'appunto Sull'isola di Fortnite Sappiamo che sta per arrivare il nuovo cacciatore Sappiamo che non è FNAF Molto probabilmente Perché come avete visto prima È arrivata la conferma Che non ci sarà questa collaborazione Però abbiamo delle informazioni molto utili Che vedete proprio qui alla mia destra Ovvero sarà una skin innanzitutto maschile Poi il portale avrà un effetto Denominato insomma Fly Color Flick Color Ecco quindi non so cosa sia E poi la skin sarà reattiva O avrà diversi stili Quindi insomma queste sono tutte Le informazioni che abbiamo Del nuovo portale in arrivo Andiamo avanti con la prossima news Guardate un po' qui alla mia destra Sembrerebbe che con l'ultima patch Siano stati aggiunti i simboli Nei portoni Per l'appunto sembrerebbe del Colosseo Per l'appunto in questi portoni di legno Hanno aggiunto questi nuovi simboli Inerenti proprio alle due skin Ugo e Ush Due skin che conosciamo benissimo Che per l'appunto il loro simbolo Sta se non sbaglio nella loro spalla E questo simbolo è stato aggiunto Nei portoni del Colosseo Quindi insomma potrebbe essere Solo una coincidenza O magari è proprio un avanzamento Proprio della storyline All'interno di Fortnite In questa nuova stagione Non lo so Vedremo Inoltre piccola curiosità Guardate un po' qui Questi ragazzi Sono tutti Tutta la lista aggiornata Di tutti i cosmetici Insomma Che attualmente Sono nei file di gioco Ma non sono neanche stati rilasciati Una volta Adesso Togliete tutte le skin di San Valentino Che quelle sappiamo che usciranno Alcune tramite sfide Altre no Ma come possiamo vedere Ci sono tantissime skin Come ad esempio La Bombarolo Insomma Versione più corazzata Quella da 1200 bucks Che doveva uscire Tantissimo tempo fa Poi c'è la skin del fungo Quella reattiva Anche quella dove uscire Non è più uscita Insomma C'è anche la skin Se non sbaglio Di Come si chiama Scully Ecco versione Cubo Che non è uscita ancora Risale tipo a qualche stagione fa Insomma Una lista veramente molto carina Da vedere Insomma Questi sono tutte le skin Che non sono ancora uscite Ma adesso ragazzi Parliamo della skin Bruma Infatti Se noi cerchiamo Ragazzi Nel negozio oggetti Guardate un po' Cosa succede Se noi Andiamo esattamente Nel set Vedete di Bruma Questo è la sua skin Questo è il suo piccone Se noi clicchiamo Sul piccone Colpo astrale E andiamo su Anteprima stili Guardate un po' Cosa c'è qui Esattamente Un nuovo stile Aggiuntivo Tutto oro Basta che andate Insomma nel negozio oggetti Anche voi E dovreste benissimo Vederlo E come possiamo vedere C'è il piccone Proprio con lo stile Oro Come possiamo leggere Anche qui E attualmente In fase di sviluppo Quindi la stanno Attualmente ancora Facendo Ovviamente la skin Insieme anche al piccone Lo stanno un attimo Sistemando Ma arriverà Presto su fortnite Probabilmente con la nuova patch Che arriverà Settimana prossima Martedì Barra mercoledì Quindi la patch 15.40 Se non erro Arriverà Per l'appunto Questo nuovo stile Gratuito Per tutti i possessori Della skin Bruma Esattamente questa qui Che attualmente presenta Ben due stili E dovrebbe Quindi ovviamente Dato che hanno aggiunto Anche lo stile Per il piccone Dovrebbe anche per la skin Arrivare Ovviamente Lo stile aggiuntivo Tutto oro Quindi ragazzi Dopo con la nuova Presione Del negozio oggetti E niente ragazzi Bella Ciao a tutti i хочу Ciao a tutti ieri